Allora io vorrei partire con questo convegno chiedendo a due delle persone che ho qui accanto che cosa vuol dire fare poesia, fare letteratura da un evento sismico, da un terremoto perché questi eventi catastrofici, naturali, sono spesso, e lo è successo tante volte, sprone per la scrittura, per la creazione poi bisogna vedere se questa letteratura è una forma di pathos nei confronti delle persone che non ci sono più o uno sfogo dell'anima di chi le scrive, però a me viene sempre in mente quando penso a queste cose una poesia che probabilmente conoscete in tanti, quella di Ungaretti, che è San Martino del Carzo che lui scrisse subito dopo l'evento catastrofico del Carzo, assimilabile a quelli che abbiamo avuto qui dove identificava le macerie che vedeva fuori, quindi le case distrutte, con le macerie dell'anima ovvero il dolore per la perdita di persone care, di amici, proprio a testimoniare che non si muore solo non sono solo le case, o meglio non siamo solo noi che moriamo, ma è una parte della nostra anima e voglio iniziare questa cosa leggendo un piccolo estratto che viene dall'introduzione del libro del poeta marzicano Dimitri Ruggeri, che è qui accanto a me Dimitri è autore di molti scritti, molti scritti poetici e devo dire con molto piacere che più vado avanti nella lettura e più mi rendo conto che sta affinando sempre di più la sua arts poetica, davvero sta diventando bravo, molto molto bravo e gliel'ho detto poco fa perché mi compiaccio quando c'è qualcosa di bello e qualcosa che viene dal nostro territorio, dalla Marsica e Dimitri sta uscendo fuori dai nostri confini del territorio marzicano perché ha vinto recentemente, se non sbaglio, a Genova ha vinto una kermesse poetica a Genova è coautore di vari Poetry Slam in cui si mette in prima persona davanti per organizzare e per poetare e mi fa piacere molto averlo qui oggi voglio iniziare leggendo una parte dell'introduzione del suo libro e da qui partire con lo spunto per chiedere a Dimitri in seconda battuta ma scusate mi sono perso un passaggio Galatini se non sbaglio che si è occupato di tutta la parte della sociologia e della genealogia nel nostro terremoto come si vive nell'animo un terremoto di questa entità parto subito con le parole caddero gli infermi, i vecchi, le formiche e le cicale caddero anche le bare dei villani dervisci fortunate almeno loro ad essere state già interrate quel di le macerie di 30.000 nomi azzittirono per sempre bocche tremanti da secoli per la fame il freddo e la durezza del vivere di questi luoghi invidiabile fu ai concittadini la lapide di Zaccaria Zeta nato ad Arce il 14 marzo 1897 e morto ad Avezzano il 12 gennaio 1915 per una pura casualità della vita e della morte l'uomo nel rendere l'anima a Dio sentenziò poesia da coturni e non da socchi si addice alle mie genti ed io a lui obbedì spazzando miseramente le muse mortali di queste terre Dimitri ci dai una prima interpretazione una prima spiegazione di quello che volevi intendere con questo Buonasera, ringrazio Raimondo che ha colto un po' la palla al balzo per ci ha visto un po' lungo organizzando questo convegno come dal titolo letteratura del terremoto è un tema appunto cioè bisogna bene capire quali sono gli scritti che stanno nascendo che sono nati intorno al terremoto perché poi ho scoperto uscendo un po' dai nostri confini che esiste una letteratura del terremoto non solo della Marsica ma anche dell'Irpina o di tutti i terremoti d'Italia e sarebbe bello infatti creare magari una Kermes proprio letteratura del terremoto questa l'ho lanciata a un drammaturgo molto bravo dell'Irpina che ha scritto una rappresentazione teatrale che sta vincendo premi in tutta Italia in lingua italiana e che ha realizzato quindi un prodotto esportabile vendibile ma soprattutto che può essere capito dalle persone io francamente non so come è stato il terremoto perché comunque noi parliamo di un Avezzano che non c'è più che è sparita però sono partito da delle osservazioni io ho visto il terremoto come vivo la società oggi che è una società in crisi quindi partendo da questo concetto crisi che in greco appunto dall'etimologia della parola significa separazione ma separazione nel primo significato cioè come si separava quando c'era la trebbiatura la granella il frumento dalle pagliuzze quindi per ottenere un qualcosa di puro e commestibile ovviamente poi questo termine è andato un po' è andato un po' cambiando e oggi ci spacciano la crisi come crisi economica quindi noi quando parliamo di crisi intendiamo che siamo più poveri in realtà non è vero crisi è anche opportunità è anche questione di crescita e il terremoto che appunto significa proprio rottura della terra significa anche crescita in questo caso e vedremo tra un po' una videopoesia che tratta proprio dall'incipit che parla proprio di questo di questo aspetto cioè dalla rinascita attraverso il terremoto il discorso del come è nato come è nato questo libro è stata un po' una sfida nasce come potete vedere voi come una sorta di lapide nasce al cimitero di Avezzano perché volevo vedere proprio sul volto le persone che erano morte là ci sono ancora delle persone che insomma si vedono ancora i visi e sono partito un po' dal caos quindi ho vissuto questo terremoto questo centenario partendo dal caos utilizzando il caos delle macerie con il caos della poesia perché poi il disordine porta inevitabilmente all'ordine e un rammarico che ho io è stato sempre quello di vedere queste ricorrenze come qualcosa di lagrimevoli di commemorative in realtà noi dovremmo guardare questo terremoto o queste ricorrenze dolorose come la vivono i paesi del sud del mondo che hanno una visione molto più atavica della vita cioè come una sorta di carnevale cioè sovvertire il ruolo io divento terremoto il terremoto diventa a me mi viene in mente per esempio la festa del sol in Perù a Cusco dove addirittura si effettuano forme di esorcismo per esorcizzare la paura e la morte travestendosi addirittura da animali quindi l'animale più pericoloso diventa diventa questo è stato un po' il mio rammarico non vedere delle forme di esorcismo di esorcizzare questa paura giocandoci e magari scherzandoci quindi sovvertendo un po' questo ruolo quasi sfidando perché alla fine l'uomo è grande rinasce comunque sia sempre sfidando l'evento dell'urigo e non è un caso oggi che in un certo senso lo stiamo sfidando perché c'è stata una scossa poi cambiata a 4.1 da 3.9 e noi non abbiamo paura vogliamo dire soltanto questo e la poesia questa poesia caustica in un certo senso rinasce proprio dalle macerie il testo sicuramente concludo più incisivo è sicuramente quello che parla di una puttana che stava facendo il suo ultimo dovere frutto del piacere in una casa d'appuntamento immaginata da me ad Avezzano e probabilmente quella puttana e quel figlio magari mai nato era proprio Avezzano che è morta e noi come si dice a Roma siamo un po' figli di madre ignota figli di mignota per dire perché comunque non abbiamo più radici questa è una cosa innegabile e tra l'altro è mancato come magari è stato per il terremoto dell'Irpina mi diceva questo regista Mirko Di Martino lo scontro generazionale dove gli scontri sono sempre dialogici e quindi indicano la retta via e la crescita lo scontro tra quelli nati prima e quelli nati dopo del terremoto per l'Irpina è stato un elemento di valore così come un elemento negativo che abbiamo ora avvisato nelle nostre interviste che daranno vita a un documentario dopo il terremoto di Avezzano c'è stato il negazionismo c'è stato un vero e proprio negazionismo storico si negava addirittura l'esistenza e il dolore del terremoto quindi si voleva insabbiare totalmente e un mio rammarico è che questo centenario non è stata l'occasione per riscrivere la storia se c'erano dei soldi a disposizione dovevano essere spesi per riscrivere la storia con un testo organico non frutto soltanto di gli ottimi cultori della materia per far uscire quindi per riproporre la nostra terra all'attenzione politica e soprattutto storica Marco Di Gennaro è in chiusura di Miri Ruggeri il nostro poeta del quale per chiudere voglio leggere una delle tante poesie che sono tutte belle però questa mi è piaciuta prima perché è breve quindi riusciamo a capirla subito e poi perché ha una qualche ironia secondo me si intitola Noè sono tutti morti tutti persino quel passore infreddolito che dormiva sul tetto e scattava ritto quando la mattina mi stridevano le corde vocali per i miei gorgheggi canterini neppure quei paffutti piumettini sono saltati sull'arca di Noè Noè ma dove eri tu sei morto anche tu qui non si è salvata neppure l'infima bestia grazie a Dimitri grazie 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 a tutti